Martedì 20 novembre 2018 Benvenuti su Ciper TV Anche oggi siamo pronti per un'altra classe Faremo prima 10 EMOM Dove nei minuti dispari faremo 3 deadlift E nei minuti pari faremo 25 secondi di L-Sit Hold A seguire 5 round di E4 MOM Cioè ogni 4 minuti faremo 12 toast to bar 16 deadlift e 20 oppure 14 calorie sulla bike Pesi e scalature qui di fianco Seguiteci su Instagram dove trovate riscaldamento e svolgimento della classe Ci vediamo domani per un altro World Ciao!